ciao sono vincenzo fanelli sono autore formatura internazionale sono autore del best seller migliora le tue relazioni con l'enagramma e la pnl e dei poteri segreti della comunicazione empatica questi testi non sono solo pubblicati in italia ma sono pubblicati anche all'estero sono autore anche di altri testi l'ultimo è pnl per cambiare un testo che raccoglie tante tecniche per il cambiamento personale per questo motivo usato anche da molti coach come utile manuale per aiutare i propri clienti io mi occupo di programmazione neurolinguistica dagli anni 90 e la insegno professionalmente dal 1999 infatti io sono un master trainer in programmazione linguistica master coach presso la national federation neurolinguistic programming che si trova in florida e per loro opero qui in italia proprio per formare le figure professionali practitioner master coach e trainer oggi sono qui per parlarti di programmazione neurolinguistica e come questa disciplina può cambiare notevolmente la tua vita come ha fatto con me io tanto tempo fa avevo veramente una serie di difficoltà nel raggiungere i miei obiettivi avevo obiettivi relazionali nel senso che con alcune persone non riuscivo assolutamente ad andare d'accordo cercavo nonostante i miei sforzi di portarle verso le mie posizioni ma non ci riuscivo avevo una serie di obiettivi personali legati al lavoro per cui io non riuscivo assolutamente ad andare oltre le mie possibilità e mi sentivo veramente bloccato e stagnante in determinate situazioni penso che a chiunque capiti un momento della propria vita in cui tutto sembra molto difficile sembra quasi di muoversi nel fango dove tutto è più difficile ogni sforzo viene raddoppiato nonostante tutti gli sforzi tu hai veramente tanta difficoltà nell'andare avanti verso quello che volete la programmazione linguistica ha cambiato notevolmente la mia esistenza perché mi ha fornito tanti schemi per il cambiamento personale la nostra mente profonda è qualcosa di realmente potente se tu sai come dare gli ordini al tuo profondo il tuo inconscio lavorerà per te avrai a disposizione qualcosa di veramente molto molto potente e cosa dire di tutti gli schemi di cambiamento personale abbinati alla comunicazione efficace tu pensa soltanto che puoi a un punto capire istantaneamente cosa gli altri pensano grazie alla comunicazione non verbale puoi generare empatia solo usando il non verbale con persone appena conosciute essere in grado di far passare messaggi desiderati nella mente di chi ascolta senza che possa accorgersi chiaramente tutto questo sotto una luce di etica e di ecologia sia per te che per gli altri tutto questo cambia notevolmente la propria vita essere in grado di aumentare le proprie capacità di impatto di influenza sia nella vita lavorativa che nella vita professionale cambia positivamente la propria vita e cosa dire della capacità di poter capire istantaneamente chi è di fronte semplicemente guardando i suoi movimenti oculari e la sua gestualità tutto questo è possibile grazie al connubio tra Enneagram e programmazione neurolinguistica cioè Enneagram è un sistema che tratta 9 tipi di personalità molto antico parliamo di 2500 anni collegato con la pnl quindi con i movimenti oculari crea un potentissimo sistema tu puoi capire istantaneamente in meno di un minuto chi è di fronte capire i suoi valori le sue credenze cosa gli piace cosa odia e saprei esattamente cosa fare per creare empatia con questa persona e cosa evitare per creare invece disaccordo questo cambia la propria vita questo permette a una persona di andare oltre i propri limiti ricorda i limiti che ci mettiamo in realtà sono dettati dalla nostra mappa interiore ma noi possiamo estendere questi limiti interiore quindi estendere tutto quello che noi possiamo fare fuori quindi io ti aspetto al corso practitioner in programmazione neurolinguistica integrata io non faccio corsi di un weekend in cui semplicemente mi limito a darti una forte carica che poi è destinata a scendere io ti insegno tecniche strategie che ti cambieranno definitivamente l'unico limite sarai tu a darlo infatti la pnl funziona solo se sei disposto a fare le tecniche se ci credi e se pratichi con quotidianità e con costanza nei momenti in cui tu ti limiti a leggere un libro guardare un dvd e non metti in pratica la pnl non funziona quindi per la pratica che l'unica cosa che conta nella programmazione linguistica io ti aspetto al corso practitioner leggi con attenzione il programma e ci vediamo al corso